A breve sarà possibile effettuare un censimento generale delle strutture ospedaliere in modo da intervenire per rendere più sicure le strutture stesse. Il direttore generale dell'Asp di Agrigento, Salvatore Ficarra, ha infatti conferito incarichi professionali e tecnici per la redazione di planimetrie e per la verifica della documentazione tecnico-amministrativa delle strutture sanitarie su tutto il territorio provinciale, sui mobili di pertinenza dell'azienda, con esclusione degli stabilimenti ospedalieri. Il provvedimento nasce dall'esigenza di avere in tempi brevi un censimento generale delle strutture in uso all'azienda anche al fine di programmare una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie volte a rendere le strutture sicure ed in regola con i requisiti strutturali e tecnologici generali specifici per l'accreditamento istituzionale. Questo risponde pienamente a quanto previsto dalla normativa e ai documenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in ambito di lavoro. Il direttore generale ha approvato nei giorni scorsi anche il piano di assunzione per l'anno 2015 dirigenza medica e sanitaria non medica e la proroga degli incarichi a tempo determinato di dirigenza sanitaria medica e non medica. A seguito del protrarsi del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera, l'assessorato alla salute ha autorizzato le aziende a fare ricorso ed assunzioni a tempo determinato mediante conferimento ex novo proroga e rinnovo dei contratti in scadenza. Il provvedimento è stato adottato sempre nel rispetto dei limiti finanziari previsti e approvati dal superiore organo regionale. Con l'assunzione a vario titolo dei sanitari medici e non medici interessati a tempo determinati e di altri a tempo indeterminato, si potranno rimpinguare gli organici per meglio affrontare la sempre più crescente richiesta di salute dei concittadini.